Allegri lancia i giovani, per esempio lancia Iling Junior al Tottenham, 20 milioni a gennaio si farà o non si farà, certo se Iling Junior che neanche gioca nell'Allegrentus tra l'altro vale 20 milioni per il Tottenham in Premier League, pensate quanto verrà Iling Junior dopo aver giocato in Premier League con il Tottenham. No ma un allenatore deve creare valore e Allegri sta lanciando i giovani, certo, infatti il minutaggio di Iling grida vendetta, anzi grida milioni, ma tanto va bene lo stesso, se lo si monetizza o lo si fa giocare ci sarà comunque chi festeggerà, ci sarà comunque l'entusiasmo e la propaganda allegriana.